Ciao a tutti! Eh sì, sono tornato... Eh, era l'ora eh? Sì, alla buon'ora sono tornato ragazzi. Dunque, adesso sarò abbastanza breve. Sarò abbastanza breve perché... Niente, adesso ho da lavorare parecchio. Come saprete sono stato via un bel mesetto, quasi e mezzo. Sono stato in posti che voi umani non potrete nemmeno immaginare. No, scherzo. Sono stato in America, ossia a Canada e un po' USA. E insomma, devo dire che mi è piaciuto davvero parecchio. E in effetti sì, io semplice umano non potevo neanche immaginarli posti del genere. Ma comunque ora sono tornato e ho da affrontare diversi diversi problemi. Dunque, adesso innanzitutto torno e sono pieno di richieste, insomma. Una marea di persone mi hanno fatto richiesta di lavoro. Ho anche lavori da fare che proprio avevo promesso di farli a qualcuno. E perciò adesso devo mantenere una promessa. Ma, purtroppo, ma c'è sempre un ma. Dovrò indicarci tutto il tempo che posso. E tutto il tempo che posso non sarà molto a questa cosa. Perché adesso sto affrontando un trasloco. Perciò devo proprio muovere tutto. Devo aiutare tutto. Chi di voi ci è passato potrà capire. Poi, ho ancora da fare tutti i compiti delle vacanze che la scuola mi ha dato. Per cui, ottimo, eh. Non credete che li abbia tralasciati così tanto. Ma è perché sono stato via da casa tutta l'estate. Poi, che altro da fare? Progettini personali. Beh, ovvero un progetto personale abbastanza grosso, ma vabbè. Che mi terrà abbastanza occupato. E poi, vabbè. Appunto, il tempo che mi rimane, che comunque non credete sia tanto, lo dedicherò alle grafiche e al mio, tra virgolette, lavoro. Che in pratica adesso ho anche alzato i prezzi. Per chi segue la pagina, ho dovuto, ragazzi. Se volete maggior rispiegazione, contattatemi sulla pagina Facebook o il messaggio privato. Avrò magari da destrarmi un pochino con la tavoletta. Adesso che... niente. Adesso che ce l'ho qui, la nuova tavoletta. E dunque, adesso mi state sentendo già dalla nuova postazione che ho finito oggi di montare. Presto pubblicherò sulla pagina Facebook alcune foto delle vacanze, magari con i vari acquisti di qui di là. Non acquisti videoludici perché vi avviso che non ne ho fatti. Anche perché ho ancora un sacco di giochi da finire e da mandare avanti. Soprattutto sulla Play Pre. Comunque. Comunque, comunque. Saluto i miei amici di Penso Quindi Videogioco. Che è una pagina molto seguita, ragazzi. Sì, direi, molto famosa sui videogiochi. E sono tutti molto simpatici, tutti molto pazzi. E vi invito assolutamente a passarci. Mi sa che lavorò già anche adesso sul mio canale. Ma comunque, vi rinvito perché sta crescendo sempre di più. Compreso il gruppo Facebook. Sta crescendo, sta crescendo. E perciò, insomma, ci si diverte molto lì tra foto e post. E argomenti vari. Comunque, video. Adesso state vedendo questo mio video aggiornamento nuovo. E credo che andrò avanti con Matrix. Non appena potrò. Cioè, fra un bel po'. Perché devo montare la Play 3 a ver media di tutto. Montare la Play 3, certo. Una console, tu devi montare una console. Cioè, intendo collegarla a tutti i cavi. Trovarli un posticino. E soprattutto trovare il tempo di giocarci. Che ecco l'altro impegno che mi ero fissato. Vabbè, volevo essere breve in questo. Vi avviso che sono tornato. Avrò pochissimo tempo, ma almeno ci sono per voi. Non è che sono via. Spero che anche voi abbiate passato delle vacanze bellissime. e indimenticabili. Come la mia, diciamo. Dal mio punto di vista. E dalla nuova postazione. Dopo questo aggiornamento vi saluto. E niente, vi do un appuntamento nei prossimi video. In cui magari dirò alcune informazioni che ho tralasciato. Per cui, ciao a tutti ragazzi. Grazie per la visione. Grazie per la visione.